ACTION GROUP Si è parlato innanzitutto del design, del settore arredo e del mondo contract. Abbiamo fatto riferimenti alla mia attività progettuale sul design del prodotto, sul mondo della progettazione degli showroom eccetera e poi ci siamo soffermati anche a parlare di Shanghai, di questa esperienza che sto facendo come architetto. Sono entrato a far parte di uno studio di Shanghai per la necessità proprio di questo studio di ampliare come tipo di formazione e cultura la progettazione perché parte da architetti italiani di un settore specifico che è il light design e mi hanno contattato per entrare a far parte del loro studio per gli interventi che riguardano maggiormente invece il mondo degli interni, il punto vendita, i negozi e quello che definiamo tipicamente retail design. Ci sono delle risorse di cultura professionale e progettuale e aziende anche di numeri interessanti o comunque che seppur di numeri piccoli possono attraverso il design diventare aziende più conclamate, più importanti e andare a lavorare anche per il resto del mondo. Grazie a tutti.